Luto nel mondo dello spettacolo è morto la scorsa notte a mezzanotte all'ospedale Fatebene Fratelli l'attore Pietro De Vico, nato a Napoli il primo febbraio 1911, era stato colpito da un ictus sette anni fa ma era rimasto lucidissimo e per partecipare come ospite a serate e spettacoli e tv non aveva mai smesso di fare quotidianamente riabilitazione. Grande rappresentante di quella scuola napoletana che aveva le sue radici nella rivista De Vico aveva 88 anni nella memoria del grande pubblico resta per aver impersonato il tartagliante Nicolino nella serial tv La Nonna del Corsaro Nero. E vi ricordiamo infine l'appuntamento di domani sera alle 19.30, alle 24.30 su T9 con Anno 2000 ma Roma è bella da secoli.